Beh, facciamo questo primo video per questo straordinario gruppo appena nato, la mia pasticceria salutare. Perché nasce questo gruppo? Perché ho desiderio di condividere con voi la mia esperienza. Sono anni ormai che insegno sia nei corsi professionali di pasticceria, i corsi di corti sia a pasticceria, o meglio ancora ai futuri pasticceri, ma anche ai nutrizionisti e poi ai miei pazienti. E questo lo faccio ovviamente nel mio studio. Quindi diciamo un'esperienza sia professionale sia amatoriale. La cosa che mi interessa di più condividere su questo gruppo intanto sono le basi proprio della pasticceria salutare, che sono delle basi che devono essere alla portata di tutti. Faremo insieme questo lungo viaggio che è appena cominciato. Intanto veramente ringrazio di cuore tutte le persone che hanno già deciso di iscriversi al gruppo. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e spero nei prossimi anni su questo gruppo potete trovare tantissime ricette e soprattutto più che ricette mi piacerebbe portarvi al punto tale da poter conoscere quelle reazioni chimiche, quindi quelle alchimie che accadono in pasticceria, in modo tale da supportarvi e aiutarvi a trasformare le vostre ricette preferite in ricette salutari, da poter mangiare tutti i giorni e da poter condividere con la vostra famiglia e magari con i vostri figli.